Ciao da Avsim, il primo non difensore di questa stagione che accompagna Massimiliano Allegri in una conferenza stampa pre o post Champions League è Adrien Rabiot, un centrocampista di certo non offensivo e che tra l'altro, viste le ultime prestazioni, devo dire che è meglio quando gioca che quando parla, che ci mette più tempo a scandire le parole di quanto ci mette a muovere la palla e le gambe sul campo, sembra quasi non avere l'energia neanche per finirle le frasi, comunque chiaramente complimenti al rabbio per l'italiano e quindi magari la lentezza nell'esposizione dipende anche dal fatto che non è la sua lingua, non è ancora la sua lingua, va bene, però diciamo non è proprio il massimo della vitalità, ecco diciamo così tra l'altro una serie di banalità anche in questo pre Juventus Malmo ma non è neanche tanto più colpa di Allegri ormai perché alla fine Allegri a domanda risponde, io ho detto tante volte che è anche colpa sua in che misura? nella misura in cui ha svilito in alcune occasioni l'occasione di domande un po' più approfondite, cioè in alcune conferenze si è provato anche ad Allegri a fare delle domande un po' più approfondite, un po' più per andare a sviscerare, un po' più sul dettaglio tecnico ma lui non è che ha dato delle risposte gratificanti e soddisfacenti, allora posso capire a un certo punto che i giornalisti dicono sai che c'è, ma che me frega, gli faccio la domanda a cui risponde che magari mi dà anche qualcosa in più da scrivere per ottenere più visualizzazioni perché poi quello conta e vado avanti così e quindi si è parlato esclusivamente, ma davvero cioè per 18 minuti togliamo il tempo delle domande, facciamo che sono stati 10-11 minuti effettivi, tra Rabiot, Rabiot un po' meno ma soprattutto la parte dedicata ad Allegri, solo di giocatori a disposizione o non a disposizione si può fare una conferenza stampa, cioè ma aspettate la lista dei convocati oppure fate in modo che vi comunichino la lista dei disponibili per iscritto, non si perde neanche tempo cioè se vi interessa, lo dico ai giornalisti, se vi interessa solo sapere come sta Tizio, come sta Caio, ma allora informate, Caio Giorgi no, non Caio, Caio, vabbè sempronio perché Caio Giorgi è inutile che lo nominiamo, tanto non è neanche in lista, va bene e se vi interessa questo andate a comunicare con l'ufficio stampa, andate a comunicare col J Medical, andate a chiedere a qualcuno e non devo far certo io il vostro lavoro, lo sapete fare benissimo, io non sono giornalista però non c'è bisogno della conferenza stampa per fare sempre le stesse domande, ma sempre le stesse domande, ma sempre le stesse domande forse l'unica domanda un pochino di campo che è stata fatta è il 4-2-3-1 se può essere una svolta effettivamente a livello tattico e anche lì però lui dove l'ha messa? L'ha messa sulla disponibilità dei giocatori, quindi ha detto con il 4-2-3-1 siamo un pochino più ordinati però domani con un solo esterno di ruolo che è Bernardeschi, vediamo, faremo di necessità virtù e forse neanche domani gioca Artur, cioè avete capito? Forse neanche domani gioca Artur perché in un contesto in cui Artur è bello, è bravo, è simpatico, è professionale ma non gioca mai una partita in cui deve assolutamente giocare, che è Juventus Malmo dell'8 dicembre alle 18.55 non è sicuro che gioca e non si costruisce la squadra attorno a lui cioè bisognava credo costruire la squadra attorno ad Artur, Artur e altri 10 Artur e altri 10 perché apprezzo lo sforzo di Allegri di dire gioca Perin, sono d'accordo gioca Rugani, sono d'accordo, gioca Rabiot e gioca Alexandro, non sono d'accordo però Pellegrini non è in lista e Desciglio a quanto pare di capire è appena rientrato quindi non ha i 90 minuti perché altrimenti io avrei fatto Desciglio a sinistra e Devinter a destra quindi facendo riposare anche Quadrado, con lo sforzo anche di Allegri di dire magari Devinter e Miretti, gli faremo fare un po' di minutaggio Miretti centrocampista centrale, Devinter difensore e difensore esterno che sono convocabili a differenza per esempio di Mattias Sule che non ha ancora maturato i 24 mesi, lo ha detto Allegri in conferenza stampa, di anzianità, di iscrizione diciamo di tesseramento, li maturerà a gennaio quindi potrà entrare in lista B dagli ottavi però almeno questi qui che sono convocati li facciamo giocare poi ecco Ken ha preso una botta, ha fatto palestra nell'allenamento di oggi anche Chiellini ha iniziato con la palestra mentre gli altri praticamente tutti disponibili, non è ancora rientrato McKennie Kuluseski come da comunicato di oggi della Juve dopo l'operazione è identica, ha fatto per conto suo, ha sviluppato una sinusite acuta per cui si è dovuto rioperare per rimuovere la sinusite starà sette giorni fuori, rientra ha detto Allegri con gli allenamenti lunedì altrimenti avrebbe giocato pure lui e quindi tolte anche Caio Giorgi fuori lista, Pellegrini fuori lista non c'è tantissima effettivamente disponibilità di giocatori ma Ken per esempio è un altro che deve giocare assolutamente titolare assolutamente titolare, se sta bene, è chiaro che se poi ha preso botta e ha dovuto fare palestra è un altro discorso però parlando ecco di disponibilità dei giocatori apprezzo questo sforzo da parte di Allegri di tirare un po' avanti i giovani, ma non tanti giovani, i meno impiegati i giocatori meno utilizzati perché come ho avuto modo di dire in altre occasioni il senso qual è? innanzitutto questa è una partita inutile, diciamolo è una partita inutile, che va vinta perché va vinta perché ti danno più soldi se vinci e perché non puoi perdere in casa col Malmo cioè con tutto il rispetto non puoi perdere in casa col Malmo sbronzi come saranno tra virgolette per aver vinto il campionato svedese tra l'altro domani 8 dicembre a Torino nevicherà probabilmente in serata è molto probabile la neve durante la partita gli svedesi sono più abituati di noi e va bene, ma comunque devi vincere ora, qual è il conteggio che bisogna fare per arrivare primi nel girone ammesso che serva? ve lo dico molto semplicemente se non avete già fatto i calcoli il Chelsea deve perdere 3-0 a San Pietroburgo la Juve deve vincere 3-0 con il Malmo se la Juve vince 3-0 e contemporaneamente il Chelsea perde 3-0 con lo Zenit la Juve è matematicamente prima per non solo miglior differenza reti ma anche per più gol fatti se poi vogliamo passare con miglior differenza reti allora o la Juve deve vincere 4-0 o il Chelsea deve perdere 4-0 con l'altra partita che finisce 3-0 questa è la situazione, vi sembra possibile? no, allora non pensiamoci affatto è chiaro che non finiremo primi perché il Chelsea non va a perdere anche se in trasferta 3-0 o addirittura 4-0 ma probabilmente non perderà neppure e quindi non pensiamo al primo posto pensiamo solo a vincere nel momento in cui devi pensare a vincere devi mettere in campo una squadra che abbia un'idea che abbia un progetto che abbia un senso anche per il dopo per questo io mi lamento delle domande dei giornalisti ma qualcuno gli ha chiesto come si deve fare per segnare di più cioè è chiaro che la Juve segna poco perché non vi è chiesto quali sono gli schemi nuovi se ce ne sono che avete provato o state provando o che cosa state provando a fare per aumentare i gol fatti e migliorare anche il tasso di conversione tra tiro in porta e gol che cosa state facendo per far segnare i centrocampisti quali possono essere gli ulteriori sviluppi dopo il 4-2-3-1 quando rientrerà Chiesa verrà mantenuto questo assetto lo state preparando proprio per Chiesa oppure no senza Morata questo assetto può cambiare o magari può rimanere uguale con Ken davanti dipende quindi anche dalle caratteristiche dei giocatori oppure è un modulo se di moduli dobbiamo parlare che si presta a qualunque giocatore della Rosa perché la Rosa magari è fatta specificamente per questo assetto qui queste sono domande che si devono fare queste sono domande che si possono fare state cercando di occupare avete occupato massicciamente la metà campo avversaria contro il Genoa avete pensato di farlo sempre? è un nuovo sviluppo a cui volete approvare? ma dico veramente ma viene da sbattere tutto non è possibile assistere ancora a queste conferenze stampa e ripeto per colpa dei giornalisti io non voglio offendere nessuno non voglio mancare di rispetto a nessuno non sono giornalista non lo so fare non è il mio lavoro ma da utente lo dico lo dirò fino a che non cambierà il registro si possono fare delle domande serie delle domande serie perché se no sono inutili sono totalmente inutili queste conferenze stampa e il livello è bassissimo in Italia in generale il più basso in assoluto probabilmente è proprio il livello che si tocca alla Juve avendo anche ascoltato altre conferenze stampa avendo un po' visto che aria tira dalle altre parti ma rispetto all'estero proprio c'è una distanza enorme c'è una distanza enorme poi ecco altri spunti Rabiot non so se si rende conto di dove si trova ha detto che bisogna vincere e giocare bene non facciamo qui questa cosa Adrienne questa è Sparta qui la cosa funziona in maniera diversa deve giocare male c'è anche la maglietta qui sotto nella mia vetrina deve giocare male non esiste che devi giocare per comunque a parte gli scherzi Rabiot ha detto una serie di banalità ma ripeto lo ringraziamo per aver imparato l'italiano quindi già va bene così dicendo per esempio devo giocare meglio per evitare che ci siano di nuovo i fischi perché Rabiot è stato fischiato quando è entrato in campo con il Genoa dice però io sono un professionista quindi non mi tocca più di tanto sono un centrocampista centrale ma mi adatto in base alle richieste dell'allenatore giocando anche esterno per aiutare la squadra devo sicuramente lavorare di più per fare gol il Malmo è un'ottima squadra che ha giocato molto bene all'andata e ha dei buoni giocatori vabbè cioè proprio alla grande contenuti approfonditi è stata fatta la domanda le uniche due domande alla fine che sono state fatte oltre a quella su 4-2-3-1 sono no neanche quella su 4-2-3-1 è una che è stata fatta da un giornalista svedese a Rabiot chiedendogli appunto che cosa si aspetta dal Malmo che squadra è e Rabiot più o meno ha provato a rispondere con delle banalità di piattume totale dopodiché ha anche detto io sono ancora giovane sono ancora giovane e ho ancora tanti margini di miglioramento e sono migliorato tatticamente da quando sono venuto in Italia perché qui si gioca in maniera diversa e sono soddisfatto di questo cioè avete capito Rabiot si ritiene ancora giovane Rabiot ritiene di essere ancora giovane e di poter ancora crescere mi domando in questi due anni e mezzo con tutti i soldi che prende 7 più 2 di bonus quindi 9 all'anno ho tolte le tasse che deve versare la Juve ma non sono affari suoi resta però che comunque lui ne prende 7-9 che cosa ne ha fatto di questi soldi cioè non voglio sapere come li ha spesi voglio sapere in che modo pensa di averli meritati se dopo due anni e mezzo è ancora giovane e deve ancora crescere e può ancora migliorare ci mancherebbe che non avesse neanche più margini di miglioramento sarebbe da prendere e da buttare e poi insomma vincere fa stare meglio dice Allegri quindi dobbiamo comunque vincere poi le favorite per la Champions sono bla 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 vedremo chi ci sarà come sorteggio ma ci penseremo dopo adesso dobbiamo vincere tutte le partite e dedicarci poi al campionato per i due mesi dopo questa partita col Malmo in attesa poi di andare appunto agli ottavi per il resto veramente 0 0 contenuti sottolineo ancora il fatto che probabilmente Artur non gioca neanche domani e che non ha ancora deciso quindi Allegri tra centrocampo 3 e centrocampo 2 senza contare il fatto che l'assenza di Pellegrini e Caio Giorgio io lo ricordo rispetto alla scelta dei giocatori in lista è stata fatta in funzione di Desciglio che è stato più infortunato che altro e che forse non gioca neanche domani e di Ramsey che non solo è stato infortunato ma è stato anche messo platealmente fuori rosa più o meno platealmente quindi sono scelte che poi abbiamo pagato perché magari abbiamo vinto fin qui 4 partite su 5 e quindi va bene però tra Chelsea che eravamo già qualificati e adesso sarebbe stato utile magari impiegare ecco questa sarebbe stata la partita perfetta non tanto per Pellegrini che comunque ha giocato solo 45 minuti col Genoa magari avrebbe potuto fare 90 domani ma soprattutto per Caio Ciorgi che non esiste che non si vede mai quindi questa è la mia delusione soprattutto fronte giornalisti ma non certo non certo possiamo mandare esenti da responsabilità Allegri per la scarsità di contenuti per la tristezza e il piattume di queste parole speriamo che che cosa vi devo dire speriamo che la partita sia completamente di segno opposto domani quando si scenderà in campo grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti provate a facciamo una cosa un bel divertimento e grazie se siete arrivati fin qui ad ascoltarmi scrivetemi domande e risposte sensate interessanti che avreste fatto o voluto ricevere in conferenza stampa davanti ad Allegri e a Rabiot prima del Malmo così se vi va sarebbe interessante anche fare questo brainstorming perché così vediamo se sono solo io che percepisco questa carenza di contenuti oppure no like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti tra cui la live reaction di Juventus Malmo dalle 18.25 quindi 30 minuti prima del fischio d'inizio e durante tutta la partita e abbonatevi per tanti vantaggi tra cui la chat vocale durante la live reaction e la chat testuale qui di fianco in diretta durante il mio commento post partita ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti